Consigliere Bonura, lei ha presentato una interrogazione su alcune tematiche che stanno molto a cuore alla cittadinanza, quali la pulizia, il lavaggio e la sanificazione delle strade, dei marciapiedi, dei parchi, delle aree verdi e delle aree condominali. Quali sono i punti principali che emergono in questo documento che ha depositato? La mia interrogazione è volta principalmente a far emergere la sporcizia, purtroppo è i cattivi odori che si evidenziano e sono abbastanza rilevanti mentre si circola nella nostra città. Pertanto ho presentato un'interrogazione affinché appunto il sindaco provveda a vigilare soprattutto sull'operato di chi svolge questo lavoro. E oltre questo provvedere al lavaggio e allo spazzamento e alla sanificazione delle nostre strade, dei marciapiedi, nonché delle aree verdi e delle aree pubbliche perché risultano in totale degrado. Inoltre consigliere lei punta l'accento su degli sgravi che riguardano Tari e Tasi. Chiedo all'amministrazione di fare un regolamento appunto per coinvolgere e responsabilizzare i cittadini volenterosi che provvedono al lavaggio e allo spazzamento dei marciapiedi delle proprie abitazioni e anche provvedono alle strade limitrofi ai propri immobili. Pertanto chiedo che a questi cittadini volenterosi gli vengano fatti degli sgravi sulla Tari e anche sulla Tasi nel caso in cui si dedichino ai giardini che si trovano vicino le proprie abitazioni. Grazie.